Ottava e ultima corsa premio da Gherapid, 5 anni e oltre, categoria C e D, non corre il numero 3 Open, rimangono al via in 5 con l'1 Oxford Street, con il 2 Peppe della Corte, con il 4 Paola del Ronco, con il 5 Phantom, con il 6 Cashman Caviar, cavalli che vanno a completare la fase di lancio, 100 metri allo stacco della macchina, si ritrae Oxford Street, macchina che lascia i concorrenti, lotta per il comando a 3, e Phantom in mezzo al numero 4 Paola del Ronco, il 6 Cashman Caviar, con Phantom che emerge nei confronti di Paola del Ronco, 200 in 13,6 e Phantom che affronta la piegata al comando, mentre Paola del Ronco si pone in seconda posizione, poi Peppe della Corte in terza, più indietro rimane Oxford Street, mentre ha sbagliato Cashman Caviar, si va così davanti alle tribune, con Phantom al comando nei confronti di Paola del Ronco, sono in stretta fila indiana, 43,8 il passaggio ai 600 di corsa, con il leader che cerca ora di amministrare, tant'è che Cashman Caviar si ricongiunge in coda al plotoncino, quando si va adesso ad affrontare la piegata di destra, 800 che vengono via in meno di un minuto, la squalifica che coglie Cashman Caviar, che ripete l'errore, quando siamo adesso di fronte con Phantom ancora al comando, su Paola e Peppe della Corte che accenna a spostare a largo, 1,16 e 6, con un quarto in grande rallentamento, da parte di Phantom l'errore di Paola del Ronco che stava cercando di spostare, finisce con lo sbagliare, allora Phantom arriva ai tre quarti di Emilio in 1,31 e 6, e cerca ora di difendersi dal ritorno di Peppe della Corte, che va per linee esterne, poi c'è Oxford Street, addirittura ad arrivo, Phantom al comando, Peppe all'esterno, poi Oxford Street, mancano cento o poco più metri al taguardo, con Phantom che cerca di resistere al ritorno dei due avversari, nel finale, Phantom che si mantiene in evidenza, mentre per il secondo sono molto vicini, Peppe della Corte, che comunque dovrebbe avere avuto la meglio su Oxford Street, 1,59 e 8 per Phantom, Giuseppe Pietro Maestro alla guida, Antonio in pro-training, i colori della Noa Rupert, riapprezziamo gli ultimi metri con Phantom che riesce a controllare gli avversari e lascia al secondo posto Peppe della Corte, che all'esterno ha la meglio su Oxford Street, 5, 2, 1, l'ordine di arrivo di questa ottava e ultima, c'è 28 e poco più per gli ultimi 400 metri, 1,59 e 8, il tempo totale 1,14 e 9, la media al chilometro per Phantom e Peppino Maestro. È tutto per il convegno odierno, Luigi Migliacci, Umanuele Cardoni e Ilaria Minlozzi dal palco delle premiazioni vi salutano e vi ringraziano per l'attenzione. Appuntamento con le corse al trotto alle Capannella, mercoledì 2 luglio.